I vecchi diventano strani animali, non lo sapeva questo, scontrose, intolleranti, a volte impauriti dalla solitudine che hanno voluto loro stessi e che tornano a difendere quando è minacciato. È stato durante una di queste brevi crisi che mi ho invitato a venire qui questa sera. Faccio parte anch'io di questa famiglia? Lei non si ha alti, professore, la prego. Sì, l'abbiamo appena deciso. Padre, madre e noi figli. Quale famiglia? Questa famiglia? Oh, litiguerò di certo con tutti, anzi è già successo. È perfetto! Bianca, sei un genio! Stupendo! Oh, non ti eccitare, perché tanto non ce lo dà. Casa mia è piena di calcinacci. Questa è demenza! Imperdonabile! Io me ne freddo dei tuoi appaltamenti, ma non mi devi sfottere facendo finta di farmi regali. Mi fai male! Mi fai male! Lasciami, ma sei pazzo! Lasciami! io mi freddo dell'agno! professore la verità che mistero c'è nella sua vita chi è fermi aspetti per dire mio dovere aiutarla lei non ha nessun dovere e io non voglio avere niente a che fare con la polizia sono il maresciallo bernai del commissariato gambitelli il signor corrad uber questo signore abita in casa sua io non ho consigli da darle e poi un uomo della sua età intelligenza sa da solo cosa fare un taglionetto preciso già è così semplice non sarà per caso anche lei un'altra vittima dello charme di conrad basta ho detto basta vi sbranate come dei cani rabbiosi io credevo che vi amaste che poste amici veri amici inseparabili tutto è stato molto peggio di quanto potessi immaginare io non credo che inquilini simili siano mai esistiti ma poi mi sono trovato a pensare come diceva lieta che avrebbero potuto essere la mia famiglia riuscita o meno diversa da me fino allo spasimo e siccome amo questa scioccolata famiglia vorrei fare qualcosa per lei come lei senza rendersene conto ha fatto per me grazie a tutti